Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come vedete stiamo giocando a Wild Hero, questo è il mio primo video e per favore non vorrei chiedersi in questo video, grazie Allora, ho preso ora il mio baule comune, sempre ogni giorno mi pare il caso Ok Però vi consiglio di scaricare questo gioco e passate nel canale di un mio amico, blocco57 Allora, questa qua non è la mia prima volta, spero che ci gioco, come sembra infatti Allora, testeremo questo qua, Amore Mazza ferrata? Per me non è un maltoglio, ma non è che mi piace tanto, quindi meglio cambiare subito No, sto per cadere Ok, ci abbiamo due coltelli da lancio Se volete vi porterò anche Minecraft Raggiungiamo il primo like però Grazie Ok Comunque, seguite anche il mio primo canale Tipano T-Y-P-A-N-O Farò tutti i video in inglese Cavolo Sì, già l'ho sbloccata la provincia questa, quindi Non importa Ciao Ciao, già ti avevo sbloccato, quindi chi se ne frega Anche lei ha un cuore vicino, mi pareva il caso Beh, no, mi aiuta il primo torno Quando la trovo Mi pare il caso Ah, stiamo E poi se ne va Come tutte le ragazze Ok Allora, sbloccato tutte le cose Sì Allora Prossimo E l'altro 300 Mi viene Dicuro che non l'ho mai sbloccato però a questo Quindi È un problema distruggerlo Ok Ottimo Oh yes Ma ha salvato all'ultimo Ok Ucciso Allora Ora Ora abbiamo due coltelli E due spade Quindi È più grande la spada Ora Mi pare il caso Che cade Lei E io che muoio Cosa di tutti i giorni Non vi preoccupate Ci sono già abituato Scusatevi se sto a fare un video Ora Se sto a vederlo Che però per continuare Devo per farsi vedere dei video Ui Ma c'è verra Coltelli Oddio Ok Stimo attenti a non cadere Oh yes Comunque Anche se durerà 8-7 minuti Guardatelo per favore Ok Tanto ti ammazzo Quindi Vai via Ma lo dice Tutorella Vai via Va Vado Validi Ho sbloccato Una Ahem 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 Vabbè Per questo video è tutto Ciao a tutti Ciao Ciao